Una serata all'insegna del divertimento e dell'ambiente nella villa romana di Bocca di Magra con Stefano Nosei e Dario Vergassola. Al centro dell'incontro, i cambiamenti climatici degli ultimi decenni, cause, effetti e possibili soluzioni affrontati con la solita verve dai due comici con la collaborazione scientifica di Roberto Meloni, esperto di clima e ambiente e Marco Bianucci, ricercatore del CNR. Tra gli scienziati ci sono persone che pensano in modo diverso, come una riunione di condominio tra scienziati. Esattamente, dove non si trovano mai d'accordo chiaramente, però ci sono i fatti e ci sono le opinioni, l'importante è capire quali sono i fatti e quali sono le opinioni. Lei conosce il clima di 900 mila anni fa per capire come sarà quello di domani, cioè non le bastava come tutti guardare le meteorine dico una stupidaggine così. Cioè, cosa succede in una carota di ghiaccio? Sarebbe stato molto più divertente, però non avrebbe dato le stesse informazioni. Presenza virtuale per Giovanni Soldini, in diretta dal Canada con un'intervista telefonica prima della partenza della Quebec Saint-Malo.